Se volete acquistare crediti passate da FIFA Coinzone, sono veloci, sicure e con ottimo prezzo e con il codice coupon GIOVISPO otterrete il 5% di sconto Troverete il link qui sotto in descrizione Salve a tutti ragazzi, belli e brutti e iscritti più di tutti Bentornati su Gioveh di Spò Io sono Giovi Spò e questo è ormai l'ennesimo episodio della serie Road to Glory Serie che ormai conoscete alquanto belle Per chi non lo sapesse in questa serie farò una scalata Una sorta di scalata diciamo tra virgolette per arrivare in divisione 1 Almeno arrivarci, non dico vincerla E la farò in maniera normale Ovvero i crediti che guadagnerò dalle partite, dalle vittorie di divisioni, dalle retrocessioni eccetera 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 Li investirò per comprare altri giocatori, giocatori nuovi e giocatori da sostituire Come ad esempio qualche attaccante in più, difensori eccetera 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 Allora come state per vedere sto andando ad acquistare il Cicciarito Hernandez con i 5000 crediti che avevo vinto dalla vittoria della divisione 8 nello scorso episodio E non solo, vado ad acquistare Navas, il parapalline Navas del Real Madrid 79 di overall che è alquanto buono Non è fortissimo però cazzo è buono Poi questo argentone zongo, velocissimo, discreta, forza fisica e non un ottimo tiro Con i crediti che mi rimanevano erano 1400 circa vado ad acquistare dei contratti E questa è la prima partita che si prospetta in questo episodio E' una BBVA Il primo gol però arriva attraverso un'azione A quanto direi di sì fortunosa Che mi è capitata con Diavara Che è scatenatissimo, è fortissimo e bagatissimo Diavara Poi ancora Diavara così la mette nell'angolino basso Diavara la passa di Hernandez, il tiro di Hernandez Sulla carta ha 80 di tiro E ti mostro anche nel gioco il suo 80 di tiro Diavara ancora triplette in questa partita Diavara così si libera il difensore Un altro se lo smarca, se lo smarca La passa di Hernandez Hernandez in tranquillità si libera anche lui Il tiro, rete, rete di Hernandez Il mio avversario su 5 a 0 fa la cosa giusta E quitta, non avrebbe senso continuare a giocare E quitta giustamente Diavara migliore in campo Call e assist, cazzo è forte Anche Hernandez è forte 86 di velocità con 80 di tiro, cazzo Ho visto che aveva anche 80 di testa sul footer Vai, prossima squadra è questa Questa ibrida BPL, Bundes e basta Abbiamo Leno, Alberto Moreno, Yami Martinez Dan, Boateng Che cazzo sto dicendo E Benatia, scusate Questo palla, l'angio filtrante per Hernandez Con un palonetto morbido La mette così Ancora Hernandez approfitta della caccata dell'avversario E la infila tranquillamente Vedete questo Zongo Fa uno stop di petto a seguire Velocissimo Zongo la passa in mezzo Con un passaggio della merda E Hernandez non può far altro che Appoggiare in raid Ancora lui Ancora Bueno Kinder Bueno La mette così Scusata pubblicità occulta 4 a 0 Un gol all'avversario a viva Con questa azione Con Lukaku Che praticamente È infermabile, cazzo Fa tutto da solo Si smarca Si rimarca Poi viene fermato Ma Iborra Fa quel tacco di merda In difesa Eh Lukaku Che cazzo vuol fare Segui Comunque Altra azione Hernandez Così Diceva questa palla Un pallonetto di testa Bellissimo Piano piano Questo pallonetto Palla lunga per Abomayang La stoppa col destro Il tiro di Abomayang Eh Il parapallino Non può farci nulla Zongo ancora Così sulla fascia Il cross Per la testa di Hernandez O Depp che aveva 80 di testa Almeno su Futea da 80 di testa Comunque La partita finisce Dunque Così 6 a 2 Zongo E Hernandez Il miglior in campo Con 9,7 Altri crediti Team Asturde 2 Vabbè AS2 Vabbè Sì sì Diciamo Questo gioco E Hernandez E' buono E' buono Direi che è buono Prossima e ultima partita E' questa Abbiamo questa Ligan Lavez Bright White Lucas Berratti Cabaglie Matuidi Digne David Luiz Quell'altro Quell'altro Non conosco Sir In porta E il terzino A destra E' oriero Il primo gioco Arriva con Buino Che segna così E' buono 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 Poi Bright White Così si libera Della difesa In velocità Il bug Io faccio un bug E il mio avversario Segna con il bug Chi ti bug Ferisce Ti bug Perisce Ed è giusto così Alex Si libera Fa un cross Cercherà la testa Di Buino Ancora di testa Buino Doppietta Solo di testa Lucas così Corre sulla fascia Tremolina Si cerca di intercettarla Ma non riesce C'è questa palla Per Bright White Sen Travolin Scivolata Forse la prende Ma vabbè Non fa niente Finisce dunque Così 2 a 2 Milioni di campo E Bright White Navas il parapalline Non ha parato un cazzo Dunque L'episodo termina qui Se vi è piaciuto Un bel pollice All'insù Iscrivetevi al canale Se siete già iscritti Qui a Giovi Spor Vi saluto Vi ringrazio Ci vediamo Alla prossima